Questo è un altro caso di Olonsix, stiamo adesso andando a simulare quelli che sono i tessuti gengivali che sono stati persi dal paziente. Questo giallo che vediamo è il tessuto di gengiva che si perde e di osso quando un paziente perde le radici dei denti. Abbiamo prima di tutto scannerizzato con laser quelli che sono gli impianti inseriti nell'osso. In questo caso sono stati sei impianti, si mette una polverina sopra che è fluorescente che va a far riconoscere allo scanner le forme e su di questi andiamo poi a simulare la dentatura definitiva. Non è ancora la definitiva, qua stiamo definendo adesso per esempio la forma delle gengive. Ecco qui, per esempio ora stiamo dando più ampiezza alle gengive degli incisivi laterali e qua dei centrali. Chiaramente il software ci avvisa quando i denti sono delle proporzioni corrette. Andiamo a simulare una prima stampa con dei dischetti da simulazione nel nostro fresatore 3D che realizza in fisico quello che abbiamo progettato al digitale. Questo poi viene provato nella bocca del paziente. Fate ulteriori modifiche sulla bocca del paziente. E su queste modifiche poi andiamo a progettare la struttura definitiva sulla quale poi vengono applicati i denti insomma definitivi. Qua abbiamo il nostro dottor Andrei che sta prendendo ora dei materiali che ci servono per accoppiare questi denti da simulazione sulla struttura che verrà fresata dal computer. Un saluto dal dottor Palmas e dal nostro laboratorio del Policlinico.